Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Momentaneo rinforzo dell'alta pressione sull'Italia, dove regalerà qualche ora di stabilità e in particolare un lieve aumento delle temperature. Tuttavia a ovest osserviamo una nuova perturbazione atlantica in lento movimento verso il Mediterraneo. Questa porterà qualche fenomeno a partire da questo mercoledì sul nord-ovest e nei prossimi giorni anche sul resto d'Italia. In Abruzzo giornata complessivamente stabile, con cieli poco nuvolosi al mattino, con maggio di schiarite lungo le coste. Poi dal pomeriggio nubi in graduale aumento, a cominciare dall'Appennino, senza particolari fenomeni. Al più qualche breve piovasco in montagna, ma nulla di particolarmente rilevante. Temperature stazionari, un leggero aumento, massime tra 12 e 16 gradi, minime tra 5 e 9 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Realizziamo i tuoi sogni